Grazie a tutti. Non vi dico più. Io uscirò per le strade in questi giorni nascosto con una mazza in mano. Dietro ai muri li potrete trovare ovunque. Uscirò improvvisamente appena vedrò qualcuno che si aggira senza motivi che abbiano carattere di urgenza. Una botta in fronte gli do e lo lascio stecchito a terra. Meglio stecchito da pe che dal virus. Ve lo assicuro. Detto questo vi saluto. Ubriachi che non siete altri.